Ciao Lautaro, oggi abbiamo visto un Lecce che nel primo tempo ha fatto sia una buona fase difensiva, soprattutto con Tuba e Baschirotto, che una buona fase offensiva. Quale avete faticato un pochino di più a contrastare nel primo tempo? Perché poi nel secondo tempo abbiamo visto un Inter devastante. Sì, sì, è successo magari quello che ci aveva successo l'altra volta con l'Atletico Madrid. Ci sono venuti a prendere alti a guomo e abbiamo fatto tanta fatica a uscire dal vaso, a costruire bene. Poi nel secondo tempo, avendo l'immagine, parlando con il Minster, abbiamo visto un paio di cose e siamo scesi in campo con altre opzioni e abbiamo sviluppato una partita che per noi era importante. E poi non date mai punti di riferimento perché riuscite a segnare da ogni reparto. È questo uno dei tanti punti di forza dell'Inter di quest'anno? Sì, credo che stiamo lavorando in una maniera incredibile in settimana e cerchiamo di dimostrarlo. Quando scendiamo in campo oggi abbiamo fatto un'ottima partita, salvo i primi minuti del primo tempo, poi abbiamo fatto tutta la gara noi. Vediamo sempre azioni diverse. Oggi abbiamo visto una novità, questo passaggio filtrante di Aslani che ti ha portato a segnare il centesimo gol in Serie A e poi è arrivato anche il centonesimo. Sì, oggi è stata una giornata bellissima per me. Prima perché abbiamo vinto e poi perché ho alcanza questo record, questo traguardo importante e sono molto felice. Domanda allo studio? Ciao Lauti, complimenti per la vittoria e per la doppietta. Giustamente sei arrivato al traguardo dei cento gol, anzi cento uno. Non ti fermi più, ti ricordi il primo gol di questi cento uno e avresti mai pensato di arrivare fin qui? Sì, sì, mi ricordo quasi tutti. Però no, sinceramente sono tante cose che ti passano in testa in questo momento perché da che sono uscito o partito da casa 15 anni non immaginavo avere questo presente, aver raggiunto questo traguardo con questa grande maglia, con la storia che ha questo club, però è merito al lavoro, devo continuare su questa strada e facendo quello che sto facendo. Anche perché adesso ci sono tanti altri traguardi ancora da raggiungere, però sembra un Inter che è in grado solo di vincere. Ad oggi quest'Inter ha dei punti deboli. Sì, sempre, sempre ci sono cose da migliorare, come ho detto prima, nel primo tempo abbiamo faticato tanto con la squadra che ci è venuto a prendere alti a uomo, quindi dobbiamo essere più puliti a uscire dal vaso, dobbiamo migliorare in ogni aspetto e sono contento perché continuiamo a vincere e questo ci porta a vincere. Grazie capitano. Grazie mille, ciao ragazzi. Ciao Emil, è un Lecce che non ha mai mollato la presa, soprattutto nelle ripartenze sembrava essere un po' pericoloso. È questo che forse, soprattutto nel primo tempo, vi ha messo un pochino in difficoltà? Sì, 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 devo dire che è stata una partita viva fino all'ultimo, soprattutto nel primo tempo, dove loro portavano questa pressione abbastanza aggressiva, molto alta. Noi siamo stati bravi, nonostante un campo non perfetto che non ci permetteva, secondo me, di palleggiare proprio nel miglior modo, però siamo stati bravi nel trovare gli spazi e essere poi concreti quando siamo andati poi nella loro porta, nella loro area. Aggiungiamo un altro clean sheet all'Inter, questa volta per merito tuo, però vorrei sottolineare anche un'altra azione importantissima, che è quella che porta al secondo gol, al gol di Fratesi, perché parte da te. Sì, 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 sono molto contento, anche perché noi spesso proviamo quel tipo di giocata in allenamento e sono ancora più felice se poi appunto l'azione inizia da me per poi finire con un gol. Quindi è stato sottolineato anche questa cosa e mi fa ancora più piacere. Domanda da studio? Sì, ciao Emilio, complimenti per la tua prestazione e per la vittoria. Hai dimostrato anche con i piedi, come dicevi poco fa, tranquillità, ti sei preso, vi siete presi dei rischi, ti sei preso dei rischi calcolati come fate per poi trovare tante opportunità davanti. Come si lavora? Sapendo di non giocare, non dover giocare sempre, come ci fa a farsi trovare pronti poi in queste occasioni? Sappiamo che il ruolo del partiere è un ruolo ancora più difficile, più delicato da questo punto di vista. Sì, sì, è una bella domanda anche perché diciamo che quest'anno è un anno importante sotto tanti punti di vista dove uno ha la possibilità di allenarsi sempre con dei compagni di un livello superiore rispetto alla media e quindi ogni giorno uno ha la possibilità di imparare e di arricchire il proprio bagaglio personale. è normale che non è facile non trovare quella continuità che soprattutto in un portiere, secondo me, come qualsiasi giocatore, però secondo me in un portiere è ancora più importante perché è una questione di spazi, una questione di letture. Quindi non avercela diciamo ogni 3-6 giorni è difficile, però proprio per questo uno deve cercare di riproporlo e di rimetterlo nella quotidianità degli allenamenti perché solo così uno poi ha la possibilità di farsi trovare diciamo pronto per quando poi uno viene chiamato. Così mi collego anche con il discorso iniziale degli allenamenti diciamo sotto pressione con i piedi è un argomento, un tema che spesso affrontiamo, che spesso ci lavoriamo quindi è un qualcosa che viene provato anche durante la settimana. Ripeto, oggi secondo me non c'erano condizioni perfette a livello proprio di Manterbose però purtroppo in questo periodo qua tante volte succede di non trovare dei campi perfetti per via anche un po' del clima. Ecco Marco ha parlato di rischi, verso la fine del primo tempo ne hai preso uno grandissimo perché sei uscito dalla tua area e hai fermato un'azione del Lecce quanto coraggio ci vuole per fare queste uscite, per prendersi, insomma questi rischi? Eh sì sì, come avevamo detto prima dei rischi calcolati però lì un po' di lettura, di bravura anche nel saper collaborare con il compagno perché in quel caso, se non sbaglio, Carlos Augusto mi ha protetto bene perché diciamo c'è stata una buona comunicazione quindi ripeto sono cose che quando vengono bene poi sono belle da esaltare. Perfetto, grazie mille. Grazie. Ciao Carlos, tu eri qui mentre parlava a Emil, hai sentito i suoi complimenti nei tuoi confronti? Sì sì, ho sentito, ho detto per non dire bugia ma sono contento anche per lui, per i clean sheet che abbiamo fatto e ha aiutato tanto questa partita. Oggi l'Inter ha avuto forse meno occasioni rispetto ad altre partite ma le ha concretizzate praticamente tutte, anche questo significa maturità da questo punto di vista? Sì, credo che significa maturità ma io voglio fare complimenti a quelli che sono in panchina e che giocano poco perché oggi abbiamo dimostrato la forza del gruppo e abbiamo approfittato le occasioni come hai detto tu e credo che questo mostri la nostra forza, la forza del spogliatorio e continuiamo a fare bene durante queste stagioni. Da quando sei all'Inter sei cresciuto tanto, quale delle tue caratteristiche credi di aver migliorato maggiormente? Allora, grazie mille per i complimenti, devo crescere ancora tanto però la fase difensiva avevo imparato tanto, è chiaro che a Monza ho fatto pure terzo in Serie B, ho imparato come si gioca il calcio italiano e voglio migliorare ancora la fase offensiva, la fase difensiva perché voglio aiutare i miei compagni in questa stagione. Domanda da studio? Sì, ciao Carlos, complimenti per la tua prestazione anche questa sera. Da subito ti sei dimostrato un giocatore importante, un giocatore in questo momento anche che ha una grande d'utilità, sottolineavi la tua crescita nella fase difensiva, come ti stai trovando a ricoprire quel ruolo che secondo me ti dà la possibilità anche di essere importante in fase di spinta partendo magari da più indietro, da una posizione nel campo differente. Buonasera, grazie mille, è quello che ho detto, mi piace giocare, voglio ringraziare perché ho fatto già questo ruolo le altre volte pure qua all'Inter, sto crescendo, voglio crescere di più, voglio aiutare i miei compagni, indipendente del ruolo, se c'è l'opportunità di aiutarli voglio fare bene. Grazie Carlos. Grazie. Grazie.